Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Sono stati designati i candidati molise della lista di Ingroia. Intanto l'Italia dei Valori ha commissariato il partito a Isernia dopo l'uscita di alcuni esponenti, tra cui il coordinatore provinciale Antonio Monaco. Sentiamo Giovanni Minicozzi che ha intervistato Pierpaolo Nagni. Antonio Di Pietro lo aveva annunciato nei giorni scorsi. Questa volta aveva detto non mi candido nel Molise. E così è stato. La lista Rivoluzione Civile, composta da sette associazioni, tra le quali l'Italia dei Valori e gli arancioni di Luigi De Magistris, ha ufficializzato i candidati molisani al Parlamento. Sono Antonino Ingroia, capolista alla Camera, seguito dal segretario regionale dell'IDV Pierpaolo Nagni e da Marilena Natilli, indicata dal Movimento Cambiare Si Può che alla Regione sostiene il candidato presidente Antonio De Lellis. Al Senato invece il capolista sarà Giuseppe Caterina, già coordinatore dei ripietristi, e al numero due Giulia Iemma, avvocato di Venafro, anche lei iscritta all'Italia dei Valori. Dunque due dei tre candidati della lista Ingroia al Parlamento faranno ovviamente campagna elettorale per Rivoluzione Civile, mentre alle regionali si divideranno Nagni con Paolo Frattura e Marilena Natilli con Antonio De Lellis. Ma non è paradossale? No, non lo è. Anzi, per quel che riguarda i dalle valori è un viaggio di coerenza. Noi siamo stati quasi due anni nell'alleanza col Partito Democratico e con Paolo Frattura. A livello nazionale le cose sono cambiate, anche il gruppo di Cambiare Si Può e di nuova Costituzione, stanno facendo un processo diverso, ma insieme stiamo costruendo qualcosa di concreto e di vero a livello nazionale. Credo sia un meccanismo che la gente capirà, sta già capendo, e i sondaggi che danno in crescita Ingroia la dicono lunga sull'intenzione dei voti nazionali. Intanto a disegno nel suo partito una mezza rivoluzione sta succedendo, quattro esponenti hanno abbandonato il partito. Dispiace, facciamo gli auguri ai nostri amici, tra parentesi persone serie che hanno lavorato sempre con attenzione con Italia dei Valori, vuol dire che questo percorso ovviamente si interrotto perché loro hanno fatto una scelta diversa, io mi auguro che la facciano sempre nell'ambito dell'area progressista, ma il partito andrà avanti come è sempre fatto, l'anno scorso di questi tempi è successa la stessa cosa a Termoli, non mi sembra che abbiamo avuto un calo di consensi. Come andrà avanti il partito? Lo avete commissariato? Abbiamo nominato Peppino Caterina commissario che lavorerà di concerto con il vice segretario provinciale che è Antonio Rago e il gruppo rimane collegato a questo vertice, ma c'è una buona solidità sui serni alla base anche di un consiglio regionale uscente che è quindi siamo fiduciosi che come sempre i segni faremmo una gran bella figura. Michele Iorio ha incontrato il segretario regionale dell'Udc, Teresio Di Pietro, e Luigi Velardi. Iorio, pur evidenziando alcune incomprensioni riconducibili a problemi di comunicazione, si è detto pienamente disponibile ad accogliere e inserire nel programma elettorale i punti tradizionali cari all'Udc, cioè la famiglia. La solidarietà e la difesa dell'autonomia regionale occorre, ha detto il governatore, un cambio di passo con un nuovo e più condiviso metodo di governance per rendere più incisiva partecipata e responsabile l'azione politica in Molise per il prossimo quinquennio. Ad ogni modo, ha concluso, non vedo ostacoli nel riconfermare l'antica, fruttuosa e consolidata collaborazione con l'Udc e i suoi esponenti. L'alternativa nasce dal popolo cambiare si può, ascolteremo i cittadini, lo ha sostenuto il candidato alla presidenza della giunta regionale Antonio De Lellis, presidente di Rivoluzione Democratica Molise. Il progetto politico e sociale del nuovo movimento ha cominciato a diffondere il suo programma che prevede soluzioni per far fronte alla crisi sociale, economica e ambientale. L'obiettivo di Rivoluzione Democratica è proprio quello di riaffermare l'identità molisana con un nuovo percorso che nasce dal basso per dar voce ai cittadini. Verranno organizzati diversi incontri per presentare il nuovo percorso politico e le varie iniziative in programma. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Alberto Montano, chiede a Iorio e al coordinatore regionale del PDL di Giacomo di avviare un rinnovamento nel partito. A mio avviso ha spiegato in questo momento per vincere è necessario individuare e valorizzare le risorse e le energie di tutti quelli che in questa regione sono sempre stati convinti che la politica sia una cosa buona e hanno operato per il bene comune. Ha preso servizio il commissario prefettizio di Isernia, Vincenza Filippi, e subito ha dovuto esaminare i due dossier più scottanti in attesa di essere affrontati da circa un anno. Si tratta degli appalti e del personale del capoluogo Pentro. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Ancora non era arrivato a Palazzo San Francesco e già il commissario Vincenza Filippi sapeva quello che l'aspettava. L'era stato tutto riferito dal prefetto. Si tratta di due emergenze che nessuno fino ad oggi ha potuto affrontare e risolvere. C'è la questione del rinnovo degli appalti o concessioni comunali per la raccolta dei rifiuti e la gestione delle sattoria di Palazzo San Francesco. E c'è l'irrisolta avvertenza delle posizioni del personale. Due autentiche mine inesplose che l'ex commissario Tino Vardè aveva cominciato ad esaminare, lasciandole poi irrisolte alla gestione dei vivo, che come si sa è durata neanche lo spazio di un mese. Gli appalti dei due maggiori servizi esternalizzati, quello dei rifiuti e quello delle sattoria, furono avviati dall'ex amministrazione Melogli, ma fino ad oggi ancora non vanno in porto per il continuo passaggio di consegne a Palazzo San Francesco. Sono servizi molto importanti e anche molto appetiti per la loro consistenza economica. Per i rifiuti l'ex assessore Rosetta Iorio decise di lasciare ancora all'esterno la gestione, ma potenziando finalmente anche a Isernia la raccolta differenziata, che ancora oggi vede il capoluogo Pentro in coda alle classifiche nazionali. Per l'esattoria municipale discorso ancora più spinoso, perché c'è chi chiede il riassorbimento del servizio da parte degli uffici del comune e chi invece continua ad auspicarne l'esternalizzazione. Insomma due questioni non da poco ad esse va sommata l'avvertenza del personale per quel che riguarda le posizioni organizzative azzerate da Tino Vardè. I sidacati chiedono il ripristino degli incarichi e la rivisitazione delle indennità e degli incentivi. In conclusione Vincenza Filippi dovrà dare fondo a tutte le sue doti organizzative e diplomatiche per rimettere in moto una macchina comune che vive in stato di coma da circa otto mesi senza una guida, ma soprattutto senza un programma di lungo respiro. L'unica decisione che è andata in porto sulla pelle degli serdini è stata quella dell'aumento delle aliquote massime di IMU, IRPEF comunale e Tarsu, ad opera non di Ugo De Vivo, è bene chiarirlo, ma dell'ex commissario Tino Vardè. Una breve di cronaca adesso in appello. È stata condannata a 18 anni di carcere per aver ucciso Antonio Cammisa, l'anziano di Ururi a coltellate. Viveva con lui come badante insieme a Ionela Atinu, sua connazionale, che invece è stata assolta per quell'assassinio. Furono assolte entrambe in primo grado e così uscirono dal carcere. Al momento della sentenza in appello le due donne non erano in Italia. Adesso la squadra mobile di Campobasso è riuscita a rintracciare Magdalena Stoica in collaborazione con i colleghi in Romania, l'Interpol, e ad arrestarla nel suo paese, come stabilito dal giudice, per poi portarla in questura a Campobasso e quindi trasferirla nel carcere di Chieti. Domani la conferenza stampa della Polizia per illustrare i dettagli dell'operazione. Vertice nella sede dell'Aggiunta regionale a Campobasso sulla crisi del settore edile. Le imprese sono in ginocchio e tornano a chiedere aiuto alle istituzioni. Sentiamo Giuseppe Lanese. È l'ultimo grido di aiuto per le imprese molisane delle costruzioni, ormai in ginocchio a causa della crisi. In tre anni il settore si è praticamente dimezzato, con 5.000 posti di lavoro persi, mentre i mancati incassi dalla pubblica amministrazione sfiorano i 30 milioni di euro. Oggi si è tenuto un vertice nella sede della Giunta regionale a Campobasso, con il tavolo tecnico convocato dall'assessore ai lavori pubblici Antonio Chieffo, presente anche l'assessore al bilancio Gianfranco Vitaliano, insieme ai sindacati e alle associazioni di categoria. Il settore è davvero al collasso? Sì, è al collasso. Ci sono nel 2012 più di 3.000 lavoratori che non hanno effettuato nemmeno un'ora di lavoro, da dati ufficiali della Cassedile. Come se ne esce? Se ne esce trovando delle soluzioni immediate, quindi portare delle risposte concrete sulle opere immediatamente da cantierizzare, non opere programmate di lungo termine, ma opere anche di medio e piccolo periodo. Che prospettive per il futuro? Noi ci auguriamo che siano prospettive buone. Noi proprio per evitare lungaggini alla Regione abbiamo chiesto tre cose su cui intervenire, su cui ci sono i soldi. Il terremoto, la difesa del suolo e la messa in sicurezza nelle scuole. Bisogna far ripartire dunque il settore attraverso lo sblocco dei cantieri e il pagamento dei crediti vantati dalle aziende con gli enti locali. 8 milioni di euro solo per gli imprenditori iscritti all'Associazione Costruttori Edili del Molise. Alcune ditte aspettano di essere pagate da due anni. Una situazione che non è più sostenibile. Il settore è in ginocchio, gli imprenditori devono riscuotere, hanno bisogno di essere pagati, c'è bisogno di mettere in campo lavoro. Non deve essere una sceneggiata politica, non deve servire a nessuno. Siamo stanchi di queste immagini per campagna elettorale. Dobbiamo iniziare a lavorare subito con chi sta adesso e chi verrà dopo. La Regione ha offerto la sua disponibilità a trovare una soluzione, ma bisogna fare presto perché i tempi sono davvero stretti. L'obiettivo è sbloccare almeno quei progetti già pronti. Buone notizie arrivano invece dalla Solagrital di Boiano. La Gammi infatti ha comunicato ai lavoratori che venerdì liquiderà lo stipendio di dicembre e il saldo della tredicesima mensilità. Anche il commissario di Solagrital Danilo Tacchilei ha annunciato che tra qualche settimana liquiderà la differenza sulle retribuzioni relative ai mesi precedenti ancora sospese pari a circa il 20% per saldare in via definitiva i crediti maturati dai lavoratori in via di soluzione. Infine anche la vicenda relativa a trasportatori ed allevatori. Per la cronaca giudiziaria è stato condannato a cinque anni e mezzo per peculato Elvio Carugno, l'ex dirigente regionale che secondo la Procura si è impossessato di somme destinate allo sviluppo per le imprese. Intanto le indagini vanno avanti. Sentiamo Giovanni Di Tota. Quello che finora è stato rintracciato è il denaro che Elvio Carugno ha utilizzato per sé e per la sua vita privata. Un milione di euro che la Procura di Campobasso ha rimesso insieme attraverso l'uso delle carte di credito, delle schede telefoniche, dei movimenti bancari riconducibili all'ex funzionario della regione. Ora gli 007 della Guardia di Finanza stanno per chiudere il secondo capitolo di questa inchiesta. Un filone che riguarda i mille rivoli in cui è finito altro denaro, almeno due milioni. In parte in scatole cinesi di società messe in piedi proprio per attingere a quei fondi. Ancora top secret sulla cartellina in cui c'è l'elenco dei nomi che hanno beneficiato di quei soldi, ma il sostituto Fabio Papa avrebbe già tra le mani la parte centrale dell'inchiesta e starebbe per chiudere il fascicolo. La fase precedente del caso che ha portato alla luce l'attività di Carugno si è conclusa davanti al GUP Teresina Pepe. Ho sbagliato, ha detto in aula l'ex funzionario della regione con la voce rotta dal pianto, ma non sono io quello che viene descritto da giornali e tv. Non so cosa mi sia capitato, ha poi comunque ammesso, ma chiedo scusa a tutti. Qualche minuto dopo è arrivata la sentenza del GUP Teresina Pepe che ha accolto la tesi dell'accusa e ha ritenuto l'ex funzionario della regione responsabile del reato di peculato. La difesa invece aveva chiesto di derubricarlo in truffa. Cinque anni e sei mesi di reclusione peraltro già ridotti per via del rito abbreviato col quale si è celebrato il processo come avevano chiesto gli avvocati di Carugno. Tre ore di camera di consiglio al termine delle quali il giudice ha condannato l'imputato anche a risarcire la regione parte civile nel processo con una provvisionale di 400 mila euro e l'interdizione dai pubblici uffici. La difesa ha comunque annunciato appello. Di fronte a una sentenza si è più o meno soddisfatti quando si reggono le motivazioni ovviamente per poi valutarne margini di criticità delle sedi che chiaramente sarà sicuramente quella dell'appello. E l'avvocatura regionale che si è costituita parte civile nel processo a Carugno ha espresso soddisfazione per la sentenza di condanna per l'ex funzionario cui aveva chiesto un danno patrimoniale di un milione e mezzo di euro. Il giudice ha ritenuto congrua su tutta la linea. La nostra richiesta ha affermato la direttrice Alberta Delisio. Il collega Candigliota Edio ci siamo battuti per far sì che la regione possa recuperare il mal tolto per spirito di giustizia e far sì a concluso che questa sentenza possa riabilitare i tanti dipendenti regionali che lavorano con dedizione, passione e onestà a servizio dell'amministrazione. Ancora poche ore e si conoscerà il futuro del Santissimo Rosario di Venafro. Domani infatti il TAR entrerà nel merito del ricorso presentato dal Comitato in Difesa dell'Ospedale contro i provvedimenti di riordino del presidio varati dall'ASREM. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La sospensiva strappata nel luglio del 2011 ha permesso di evitare quella che il Comitato pro Santissimo Rosario definisce una vera e propria operazione di smantellamento del presidio attraverso la sostanziale trasformazione dell'ospedale in un poliambulatorio o in una residenza per anziani a seconda dei punti di vista. Ma la vera partita contro i provvedimenti varati nell'ambito del piano di rientro della sanità molisana si gioca domani quando i giudici del Tribunale amministrativo regionale entreranno nel merito della questione. Il futuro del presidio ospedaliero, non certo roseo, sarebbe già scritto in quei primi atti firmati dai commissari. Oltre al ridimensionamento dei vari reparti e la conseguente riduzione dei posti letti, ciò che preoccupa maggiormente Gianni Vaccone, presidente del Comitato pro Santissimo Rosario, è il possibile trasferimento a Esernia del reparto di ortopedia, che con i suoi oltre mille interventi all'anno è considerato il fiore all'occhiello del presidio di Venafro, a maggior ragione perché fanno notare i rappresentanti del Comitato attira pazienti anche da fuori regione. Chiudere ortopedia e il parere di Vaccone significherebbe decretare la morte certa del Santissimo Rosario. L'ipotesi del trasferimento era circolata con una certa insistenza anche nei giorni scorsi, ma almeno per ora tutto resta al proprio posto. Evidentemente anche la gestione commissariale aspetta la sentenza del Tar prima di prendere ogni decisione. E aspettano con apprensione, ma anche con una certa fiducia, gli stessi componenti del Comitato. La sospensiva concessa un anno e mezzo fa, a loro avviso rappresenta comunque un buon punto di partenza, pur nella consapevolezza che la battaglia è tutt'altro che finita. A Roccaravindola un uomo ha trovato a terra un portafogli con 3.000 euro in contanti e l'ha restituito al proprietario che vive invece a Monteroduni. Il pensiero di questa persona che aveva perso tutti questi soldi mi tormentava. Ha spiegato oggi 3.000 euro sono una cifra davvero importante e mi sono messo nei suoi panni. Con quei soldi, ha concluso l'uomo, il proprietario del portafogli doveva aprire un libretto di risparmi intestato ai figli. Biglietterie e ormeggi sequestrati alle isole Tremiti e 20 persone denunciate per abusivismo demaniale. Il sindaco delle Diomedee, Fentini, contesta l'operato della Capitaneria di Porto di Termoli, sollecitando un confronto costruttivo. Sentiamo Manuela Iorio. Nel paradiso delle Diomedee sono finiti sotto sequestro i gabbiotti delle biglietterie che vengono usati per prenotare turri intorno alle isole e 150 gavitelli che servono per ormeggiare le barche, tutti considerati illegali dalla Capitaneria di Porto di Termoli che ha denunciato 20 persone per abusivismo demaniale. L'operazione di pulizia marittima risale lo scorso novembre ma è stata resa nota solo di recente all'interno del bilancio di fine anno dell'attività della Capitaneria. Il modus operandi dei militari in divisa bianca è finito sotto il tiro del sindaco di Tremiti Antonio Fentini che in questi giorni ha inviato una lettera oltre che la Capitaneria in questione, anche al comando generale di Pescara, alla regione Puglia, ai prefetti di Campobasso e Foggia, al presidente del Parco Nazionale del Gargano. Fentini parla di incresciosa e lucinante vicenda avanzando addirittura l'ipotesi di un abusato esercizio del potere da parte di chi ha operato. Nella lunga lettera il sindaco spiega che i gabbiotti sequestrati avevano un'autorizzazione comunale sul presupposto che l'area ricadesse sul demanio del comune e come Fentini stesso fa notare non è stato ancora possibile definire la linea di demarcazione tra demanio marittimo e quello comunale perché la conferenza di servizi che doveva stabilirla è andata deserta per ben tre volte. Il sindaco critica anche il sequestro dei 150 ormeggi che ha privato di fatto i tremitesi e ha affermato dell'unico ancoraggio possibile in assenza di un approdo sicuro. È per questo che ora chiede un confronto attraverso un tavolo di lavoro terminando la sua lettera auspicando una sensibile inversione di tendenza comportamentale della Capitaneria di Termoli nei confronti della comunità delle isole Tremiti. Cambiamo argomento e parliamo di cultura, di arte, relazioni pericolose. Il titolo della mostra di Gino Marotta, l'artista campobassano recentemente scomparso, che è in esposizione alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma fino al 27 gennaio. Siamo andati a visitarla. Sono partito da Campobasso a 13 anni su un camion di patate perché volevo andare a vedere i quadri di De Chirico. Gino Marotta amava ricordare questo episodio che è la sintesi del suo amore per l'arte, quel viaggio che lo portò adolescente a Roma, dove si formò conobbe De Chirico e riuscì a farsi strada nel mondo della scultura. La Galleria Nazionale di Arte Moderna nella Capitale è stato uno dei luoghi di formazione dell'artista campobassano scomparso a novembre e lì adesso sono esposte diverse sue opere. Dal 6 ottobre, un omaggio a Palma Bucarelli, la storica direttrice della galleria. Un po' una summa della sua produzione in una sorta di mostra o non mostra un percorso concettuale, le relazioni pericolose in cui la parola ad ordine interazione con i visitatori e la stessa galleria, i suoi dipinti e le sculture, come ci ha spiegato una delle curatrici dell'esposizione Angela Andreina Rorro. Ogni volta che veniva in questa galleria Gino si commuoveva, in particolare di fronte a De Chirico, in particolare di fronte a Fontana che è in questa sala, in particolare di fronte a Giacometti e quindi l'idea di dialogare con questi che sono stati i suoi padri, come li chiamava lui, i suoi amici, i suoi colleghi, era per lui un grandissimo onore, più che una mostra celebrativa della sua opera. E quindi nasce l'idea del percorso nelle collezioni e queste relazioni pericolose, ovviamente la citazione al libro, al film, ma anche al pericolo, al piccolo cortocircuito che si crea tutte le volte che due artisti si confrontano, che possono essere amici, nemici o semplicemente due artisti, come in questo caso. Colpisce subito questa interazione già all'ingresso del museo dove un fulmine in metacrilato troneggia sul pavimento in vetro incrinato di Pirri con le statue neoclassiche che vi galleggiano sopra. Nella prima sala, tra i quadri di Burri e Fontana, le sculture passeggiano quasi dromedari, sempre in metacrilato e lo struzzo di Marotta. Poi un vortice di luce si espande quasi tra i dipinti di Van Gogh e Giacomo Balla, mentre di fronte c'è Klimt. La foresta di menta, opera del 1968 che si può attraversare sorseggiando un liquore alla menta. C'è il cubo animale nell'area Euclidea, richiamo geometrico e mitologico con il grande De Chirico, un oasi di pace, un giardino di animali e piante nell'area della guerra, tra i colori e le immagini forti di Guttuso e di Dottori. Quindi si potranno trovare delle opere nel percorso dell'Ottocento, per esempio c'è una ninfè accanto alle bellissime dipinte da Monet, come si possono trovare, c'è una sorta di installazione fatta di queste bellissime sculture colorate di Gino Marotta, quella che adesso è definita la sala della guerra, dove ci sono opere di Guttuso, De Pero, Balla. Una pantera nera, un rinoceronte e altre piante nell'area dell'ombra, a guardia quasi di opere ed entrate, i fenicotteri ostaggi rivolti verso uno specchio d'arte e un quadro con spine di acacia, un'espressione virtuale del tempo al centro di una stanza postmoderna. Le opere di Gino Marotta resteranno in mostra alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma fino al 27 gennaio. Ci sarà un nuovo futuro lavorativo per sei detenuti del carcere di Campobasso, dopo un corso organizzato dall'Unione Europea, pizzaioli tradizionali e ristoratori, durato quattro mesi infatti, hanno conseguito la qualifica di pizzaioli professionisti, uno di loro di nazionalità marocchina. Una volta che avrà finito di scontare la pena, aprirà una pizzeria nel suo paese, gli altri potranno svolgere anche un'attività esterna per alcune ore, come prescrive l'articolo 21 del regolamento penitenziario sul reinserimento sociale. Ha preso il Via Pozzilli il concorso nazionale METR dell'Anno, che vede in gara concorrenti provenienti da tutte le scuole alberghiere d'Italia. Vediamo come è andata in questo servizio ancora di Sergio Di Vincenzo. Tanta emozione, ma anche tanta voglia di dimostrare le proprie capacità. Questi principali ingredienti della prima tappa del trentesimo concorso nazionale METR dell'Anno, di scena all'hotel Dora di Pozzilli, riservato agli allievi degli istituti alberghieri di tutta Italia. Alla prima selezione hanno partecipato dieci scuole, provenienti da Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio. I ragazzi sono delle regioni limitrofe, ne sono due squadre per ogni istituto alberghiero, sono ragazzi del terzo e quarto anno e quindi si cementeranno in questi piatti preparati davanti al pubblico, davanti alla giuria, quindi emozionante. Nello stesso tempo la squadra è composta da due elementi, uno si cementerà nella preparazione del piatto e l'altro invece presenterà un vino in abbinamento. Ai vincitori della finale in programma grado nel mese di aprile sarà assegnata una borsa di studio messa in palio dalla Mira, l'associazione METR Ristoranti e Alberghi, un modo per stimolare i giovani e per dare loro una grande opportunità di lavoro. È una professione che apre le porte su tutti i livelli e poi ha la possibilità, visto che ora siamo in grande restrizione, di poter andare a trovare un posto ovunque e dovunque, come ho cominciato io. Quindi a questi giovani la mia impressione, la mia idea, la mia grande input di dare a questi giovani, di fare i sacrifici perché tutto nasce piano piano e oggi i giovani hanno questo grande input di volere subito tutto, ma non è così. I concorrenti non sono stati lasciati soli, durante la competizione sono stati affiancati da Giuseppe Di Napoli. Nei suoi 52 anni di carriera è stato il METR tra gli altri di Edoardo De Filippo e Totò, ai ragazzi, ha dato molti consigli utili. L'umiltà, l'umiltà è sapersi confrontare con tutti, sempre con l'umiltà, con il rispetto di tutto per essere rispettato. Devi presentare ma non apparire, devi essere presente ma non apparire, perché poi la capacità di questo lavoro è essere, come dicevo prima, presente in tutti i momenti e devi essere anche un buon psicologo. La fiera delle novità e delle occasioni in Piazza del Papa apre alle degustazioni di piatti tipici termolesi. Domani a partire dalle 18 verrà proposto il brodetto di pesce, mentre venerdì spazio i ravioli e i gamberi, piatti che saranno preparati e offerti da due ristoranti del posto. La fiera resterà aperta fino al 20 gennaio dalle 15 alle 21, ad eccezione del sabato e la domenica, quando sarà possibile visitare gli stand dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21. Andiamo adesso in provincia di Campobasso, dove il presidente De Matteis ha consegnato un assegno di solidarietà alla Lega Italiana lotta contro i tumori. Sono i proventi dello spettacolo Pensieri Sparsi, andato in scena al Teatro Savoia la serata. è stata organizzata dall'Associazione Talenti Artisti Molisani. Ancora Giuseppe Lanese. Obiettivo centrato per lo spettacolo di solidarietà Pensieri Sparsi di Michele Falcione e Pippo Venditti, andato in scena lo scorso 30 novembre sul palco del Teatro Savoia di Campobasso. Il presidente della provincia, Rosario De Matteis, ha consegnato oggi l'incasso della serata nelle mani della Lega Italiana lotta contro i tumori, un assegno di 1.500 euro destinato a finanziare le attività di supporto informativo per i pazienti del reparto di oncologia del Cardarelli di Campobasso. Il successo dell'iniziativa ha spinto la stessa Lega Tumori a prevedere una nuova tappa dello spettacolo Pensieri Sparsi anche a Termoli. L'iniziativa è andata benissimo perché abbiamo raccolto oltre 1.400 euro che saranno devoluti al PIS a questo punto di informazione e supporto dell'oncologia del Cardarelli e quindi noi siamo contenti. Lo stesso presidente della Lega Tumori della provincia di Campobasso, Giovanni Fabrizio, ha tracciato anche un bilancio delle campagne di prevenzione sul territorio. Abbiamo così concluso la campagna del Mese Rosa, che è ottobre e novembre, in cui noi abbiamo incrementato la sensibilizzazione delle persone all'osservazione del proprio corpo per scoprire i tumori, quindi quello che è l'attività di diagnosi precoce rivolta specialmente al tumore mammario e in questo abbiamo rinforzato ancora di più in questi due mesi, ottobre e novembre, il supporto che noi diamo allo screening che la Regione Molise sta portando avanti su tre tumori. Intanto si stringono i tempi per la nascita di un registro regionale dei tumori. Si stanno facendo realmente, fattivamente, dei passi importanti per l'attuazione, per l'apertura, per l'inizio delle attività del registro. La sede sarà presso il Cardarelli, le persone che lavoreranno sono in parte formate, in parte da formare. Questo primo anno sarà proprio di rodaggio per chi ha già lavorato, ma di iniziazione per i nuovi che dovranno acquisire la professionalità giusta per partire. Gli uomini del Corpo Forestale a Sepino, in località Piana Dolmo, su segnalazione di un cittadino, hanno recuperato un uccello ferito. Si è scoperto che era un tarabuso, un esemplare molto raro in Italia centrale e in Europa, che vive nelle paludi, negli acquitrini, canneti, Pantani e Risaie, il volatile con un'apertura alare di un metro e dieci. È stato poi consegnato a strutture specializzate per le cure. In chiusura l'appello per un cane che si è smarrito in via Montegrappa a Campobasso e di razza Pointer, femmina di colore bianco e arancione. Ha il microchip appartorito da soli quattro giorni e i cuccioli senza la loro mamma sono in pericolo di vita. Chiunque lo abbia trovato, ne abbia notizie, può come sempre chiamare la nostra redazione. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del Tg. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!